Il totale solo per i fondi FSC 2021-2027 supera di poco la somma di 7 milioni di euro, finanziamenti che sono stati confermati con l'assegnazione a Sicilia Acque. Si tratta di stanziamenti che vanno a coprire gli investimenti per il potenziamento del sistema Vittoria Gela e per la riqualificazione del potabilizzatore locale da categoria A2 ad A3. Nelle scorse settimane Sicilia Acque ha affidato le prime procedure di gara per i lotti con decreti del Dipartimento regionale Acque e Rifiuti. Sono state adesso confermate le cifre previste già con provvedimento dello scorso anno del Ministero delle Infrastrutture attraverso il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il potenziamento del sistema Vittoria Gela è stato progettato con l'obiettivo di aumentare la portata veicolata per sopperire agli eventi di insufficienza o addirittura di interruzione del servizio idrico. Così riporta una relazione della società che controlla il sovrambito. Le coperture pubbliche arrivano ad oltre 3.436.000 euro tra fondi FSC 2021-2027 e il programma FSC 2014-2020. A questi si aggiunge un importo privato che fa pervenire l'investimento ad oltre 9 milioni di euro. La riqualificazione del potabilizzatore si base invece su un progetto di oltre 6 milioni di euro, il finanziamento pubblico riconosciuto a Sicilia acque di oltre 4 milioni di euro. Il resto sarà garantito con somme dell'azienda. Il finanziamento pubblico è stato attivato sempre attraverso il programma FSC 2021-2027. Il Ministero aveva ricompreso questi interventi nell'elenco di quelli finanziabili, perché strategici rispetto al sistema idrico territoriale. Le obbligazioni giuridicamente vincolanti andavano formalizzate entro fine anno attraverso le gare, proprio per non perdere le somme autorizzate dagli uffici romani.